Grazie a tutti. Il sindaco Conoci è soddisfatto dopo l'incontro dei giorni scorsi a Cagliari con il presidente della regione Solinas, prevista a breve in città una visita del governatore. Alguero è tornata a capitale degli eventi estivi in Sardegna. Il presidente della fondazione Alguero Andrea De Logu traccia un bilancio positivo e ringrazia le associazioni. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione quotidiana su CatalanTV. La cronaca ad aprire l'edizione di oggi del nostro telegiornale per riferirvi di un episodio avvenuto ieri all'istituto alberghiero nel primo giorno dell'obbligo di Green Pass nelle scuole perché un collaboratore scolastico è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver aggredito un carabiniere. Ieri mattina l'uomo, un 55enne originario di Olmedo, si è presentato a scuola con altri due colleghi sprovvisti di Green Pass. Il dirigente scolastico li ha invitati gentilmente a uscire ma i tre sono rimasti ugualmente all'interno e a quel punto il preside ha deciso di chiamare i carabinieri. All'arrivo dei militari due dei tre collaboratori scolastici hanno lasciato l'istituto senza protestare mentre il terzo ha perso le staffe e ha aggredito uno dei carabinieri provocando le lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Il 55enne è stato accompagnato in caserma dove pare che abbia accusato un malore per il quale si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 ma i medici hanno constatato che stava bene e non hanno ritenuto necessario accompagnarlo. Un passaggio ora come sempre sull'emergenza covid in attesa di monitoraggio del monitoraggio di domani dopo il quale si saprà se la Sardegna resterà o meno in zona bianca. Confermato il superamento della soglia di saturazione del 10% dei posti letto in terapia intensiva ormai siamo al 13% mentre sono al limite del 15% i posti letto in area medica. Un dato che se confermato domani nel monitoraggio potrebbe salvare la Sardegna dalla zona gialla per una manciata di posti letto non ancora occupati da pazienti positivi. Va detto anche che per la prima volta dopo tre settimane sono migliorati i dati della curva epidemiologica nell'isola con 476 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto ai 483 della settimana precedente. Nel bollettino di ieri intanto sono stati rilevati 389 nuovi casi a fronte di 3842 persone testate mentre sono stati processati in totale fra molecolari e antigenici 8.277 test. Il tasso di positività è del 4,6% tra i decessi mentre sul fronte degli ospedali i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 24, 3 in meno rispetto al precedente bollettino. Quelli in area medica sono invece 230, 10 in meno rispetto al giorno prima. In calo anche il numero delle persone in quarantena sono 7.281 i casi di isolamento domiciliare con una diminuzione di 122 unità rispetto al report precedente. Ed ora spostiamoci come argomento perché parliamo dell'incontro che c'è stato tra il presidente Cristian Solinas e il sindaco di Alghero Mario Conoci. La regione Sardegna con l'amministrazione comunale di Alghero accorcia le distanze e continua nel percorso di dialogo e sostegno sui temi strategici che la città e il territorio hanno in programma. Il presidente Solinas è in prima linea per consolidare una sinergia finalizzata allo sviluppo delle progettualità e alla soluzione dei problemi che riguardano Alghero. Il sindaco Conoci riporta una sintesi positiva dell'incontro di lunedì a Cagliari dove ha tenuto appunto un incontro con il presidente della regione, programmazione e sviluppo del territorio, sanità e identità culturale. Il dialogo con la regione Sardegna si fa più serrato per lavorare insieme con concretezza. Con il presidente Solinas abbiamo messo in cantiere una serie di attività che troveranno sintesi anche in occasione di una sua prossima visita ad Alghero. Finalmente Alghero, il cartellone di eventi estivi ad Alghero e agli sgoccioli, ultimi appuntamenti in città, l'insegna della musica e del teatro. Tra due settimane c'è l'atteso concerto di Venditti, in questi giorni il Mamatita Festival, il Birra Alghe e per il presidente della Fondazione Alghero Andrea De Logu è tempo di bilanci. Finalmente Alghero ritorna a fare emozionare e sognare, non soltanto per le indiscusse bellezze del suo straordinario mare, col paesaggio così ricco di storia e natura. Oltre due mesi di grandi concerti e successi hanno portato la Riviera del Corallo tra le mete culturali e musicali più apprezzate dell'isola. Spettacoli di qualità, intrattenimento per i più giovani e animazione urbana che continueranno fino al Cadean, passando per San Michele. Così il presidente della Fondazione Alghero Andrea De Logu, che incassa con soddisfazione i numerosi apprezzamenti per una stagione di eventi che non si esaurisce in città. Un ringraziamento particolare vale numerose associazioni che hanno contribuito ad arricchire un cartellone importante e lavorato instancabilmente per garantire e far rispettare le stringenti norme di sicurezza, continua De Logu, ai preziosi collaboratori senza i quali sarebbe stato impossibile raggiungere questi risultati, e all'amministrazione comunale. Un'estate con tanta musica, cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati, è il grande richiamo dello sport internazionale, dall'automobilismo al tennis. Nei prossimi giorni poi c'è ancora spazio per Antonello Venditti, il 17 e 18 settembre, sempre all'Arena Rugby di Maria Pia, che ha accolto al meglio artisti e pubblico. Il ritorno dei grandi nomi ha caratterizzato il programma predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'amministrazione, a partire dalla voce Saul per eccellenza di D. Bridgewater per passare al suo omologo italiano, ovvero Mario Biondi, e poi il doppio appuntamento col jazz internazionale di Polo Fresu, il neopop di Arcomi, accompagnato dalla grande sorpresa sul palco di Madame, che ha apprezzato molto Alghero, tanto da far ben sperare per una sua presenza il prossimo anno, fino alla star Mahmood, che ha incantato la platea come le due colonne della musica italiana d'autore, Francesco De Gregori ed Edoardo Bennato. Il tutto senza dimenticare il format, ormai diventato un must dell'offerta nella Rivela del Corallo, jazz al gay. Da questi giorni le vie e piazze del centro città poi tornano a farsi teatro con la nuova edizione del Mamatita, il festival itinerante, che arricchisce di colori e creatività gli stessi spazi urbani, che nelle prossime settimane accoglieranno la straordinaria kermesse popolare catalana dell'Adi Folk e apriranno alla grande i tradizionali festeggiamenti per il patrono. Ritorna anche Birre al gay, consolidato festival al gherese delle birre artigianali, con stand e band ospitati nella splendida cornice del Qualtè. Sarà un mese di settembre ricco e particolarmente coinvolgente, e conclude, assicura il presidente della Fondazione Andrea De Logo, con lo sguardo già puntato al Capodanno. È una programmazione che non si ferma per far trovare pronta la città già per la prossima stagione estiva, che, sono certo, contribuirà a rafforzare la destinazione in sinergia con le numerose attività portate avanti per far risplendere sempre più l'immagine della Rivela del Corallo. Facciamo una pausa per la pubblicità. A tra poco. Ritorniamo in studio. Medicina veterinaria ha inaugurato ieri mattina la serie di test d'ingresso ai corsi di laurea e programmazione nazionale. Sei aule del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari in Viale Mancini hanno ospitato 250 candidati che si sono effettivamente presentati sui 286 che avevano inviato la domanda. I posti disponibili sono 40, più 6 riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero. Il test è iniziato alle 13 sull'intero territorio nazionale. A Sassari, unica sede regionale per il corso di medicina veterinaria, si è svolto tutto regolarmente. I candidati e le candidate per poter accedere ai locali hanno dovuto esibire il Green Pass o il certificato di tampone negativo al Covid effettuato massimo 48 ore prima. Durante i 100 minuti concessi per la prova, i candidati hanno dovuto risolvere 60 acquisiti di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Il 28 settembre nell'area riservata del portale Universitali verrà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa. Il prossimo test domani, venerdì 3 settembre, sarà quello di medicina e chirurgia, eodontoiatria e protesi dentaria. I candidati e le candidate sono 710 e sono convocati per le 9 in via Piandan, via Vienna e via Le Mancini a seconda dell'iniziale del cognome. Il test prenderà il via alle 13 su tutto il territorio nazionale. Si proseguirà il 14 settembre con professioni sanitarie, che ha ricevuto ben 1125 domande. Le informazioni su luoghi e orari si possono trovare ovviamente sul sito dell'università www.unis.it Ritorno dopo 8 anni nel nord Sardegna per l'associazione 50 e più domenica 5 settembre ad Alghero appuntamento nel centro congressi del Quartessa Ial, una manifestazione di grande prestigio per l'intero territorio vista la valenza della sua natura che vede premiare e dare lustro ai maestri del commercio. Questo è anche il titolo dell'evento di domenica che vedrà premiati coloro che si sono distinti per le proprie professionalità e attività. L'agenda dell'incontro prevede alle ore 10 ritrovo presso la struttura adiacente la chiesa di San Giovanni per poi proseguire con i saluti del vicepresidente nazionale di 50 e più Sebastiano Casu, del vescovo di Alghero Monsignor Mauro Morfino, del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del Consiglio regionale Michele Paes del prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro. Interventi anche da parte del sindaco di Sassari Nanni Campus del presidente della Camera di Commercio di Sassari Visconti, del presidente della Confcommercio Provinciale Bianco e del presidente Confcommercio di Alghero Cadeddu. Alle ore 11.30 è prevista la presentazione dei premiati da parte del vicepresidente provinciale di 50 e più Giancarlo Pieras. L'associazione nasce da una costola della Confcommercio e ad oggi rappresenta oltre 50 anni di tutti i settori produttivi dalla pubblica amministrazione ai liberi professionisti fino alle arti al terziario alle forze armate e ad altro. Ed ora lo sport perché Alghero ospiterà l'edizione 2021 della BNP Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis ovvero i mondiali di tennis in carrozzina. Dal 27 settembre al 3 ottobre saranno i campi dell'hotel Baia di Conte ad ospitare le gare previsti 180 atleti per un totale di tra accompagnatori e circus di questo campionato del mondo di 400 persone. Lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre i campi da tennis dell'hotel Baia di Conte ad Alghero ospiteranno l'edizione 2021 della BNP Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis ovvero i campionati del mondo di tennis in carrozzina. È la seconda volta nelle ultime quattro edizioni, l'altra è datata 2017, che la più importante manifestazione di specialità si disputerà nella Riviera del Corallo e ancora una volta l'organizzazione è stata affidata dall'International Tennis Federation alla SDC Sardinia Open Sport diversamente abili, associazione nata a Sassari nel 98 grazie alla passione di Alberto Corradi, Pier Giuseppe Vacca e Lorenzo Sanna con la creazione della prima scuola tennis in carrozzina che organizza dal 2000 a oggi l'omonimo Sardinia Open, uno dei tornei internazionali più importanti del circuito mondiale che conta 178 tornei annui sotto legida dell'ITF e del main sponsor Uniqlo. Quello algherese è stato insignito per quattro anni del titolo di migliore torneo del mondo e per due anni di fila ha conquistato anche il premio Uniqlo Comunicazione Media, quale manifestazione più seguita. E ora è di nuovo tempo di mondiali, come detto, Alghero e la Sardegna hanno dovuto confrontarsi con la concorrenza di candidature di città più blasonate grazie alla SSDC Sardinia Open e all'implagabile lavoro del suo staff è arrivato il nuovo ok dell'ITF. La Federazione Italiana Tennis con in primisi il presidente Binaghi e il presidente regionale FIT Sardegna Danela Congia ha fatto in modo che la candidatura andasse in porto consapevole delle difficoltà del momento. Immediati i patrocini del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La manifestazione porterà nell'isola circa 180 atleti e un movimento di persone tra giocatori, tecnici, familiari e accompagnatori che andrà a spiorare quota 400 con un indotto importante per l'isola in termini economici ed immagine. Il tutto è rappresentanza di 24 paesi. I campionati del mondo saranno trasmesse in diretta e differita dalle più importanti televisioni internazionali. Le giornate di gara da lunedì alla domenica saranno trasmesse in diretta e in contemporanea da tre campi sul sito sardiniaopen.net e sull'applicazione FIT Super Tennis e sono previste anche trasmissioni in diretta sulla piattaforma Sky e in diretta e indifferita su Super Tennis. Al Summer Beach continua l'esaltante torneo King & Queen. Nella tappa speciale e iscrizione individuale hanno trionfato Fabio Sanna e Sara Zimba. Nel weekend del 28 e 29 agosto infatti si è svolta una tappa speciale con iscrizione individuale per il torneo con formula King & Queen. Per la categoria maschile vittoria per Fabio Sanna e per la categoria femminile trionfo come detto per Sara Zimba la coppia battuta in finale Daniele De Martis e Desiree Di Marco. Manca solo un torneo e la conclusione del circuito e la classifica provvisoria del King & Queen of Summer Beach 2021 vede in vantaggio per la categoria maschile Luca Vitali con 50 punti e a seguire Vargio con 45 e Nettuno e Sanna con 40. Nella categoria femminile guida la classifica Valeria Gagliardi con 45 punti a seguire Opes con 40, Marras 35 e Carta 30. Il prossimo ed ultimo appuntamento del circuito sarà nel weekend del 4-5 settembre con la finalissima del 2x2 misto del secondo trofeo Global Service Immobiliari. Intanto l'organizzazione ha voluto ringraziare l'agriturismo Agave di Alghero per aver offerto i premi alla coppia vincente dello scorso weekend. Il Summer Beach chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io vi lascio al meteo. Come sempre vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.